E' mi lovo. But it's love, baby don't hurt me, don't hurt me, no more. Toh! Guarda un po' chi ce sa! Un'altra catering, un'altra catering. Certo. Certo, tu hai un oggetto, ti permette di trasportarti da una parte all'altra di tutto, certo. Eh, fatti. Certo. C'è un po' qui. Why? Allora! Vediamo un attimo se è cambiato qualcosa. Ecco, vediamo di Nazuma. Denaro. Cosa vuole da mangiare? What? Street foot. Fermi, fermi, fermi. No, te devi levare. Levati. 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 Ma già cazzo ti devi levare. Levati. Levati. Mi occupo di spazio nella foto. No. Non ti dico proprio nel ditta al cento per cento, perché potrebbero esserci delle cose che non ho visto tutto. Però finora sono molto compiaciuto. Mi ricorda molto anche parecchio lì, perché sono entrambi di cosa asiatica. Però, tetti così... Tetti così... Eh... Palazzo dello show... Così acc... Così me lo metti? In disp... Così? Certo, 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 certo. Così va benissimo, certo, certo. Così mi spattella così il luogo del boss finale, praticamente. Questa è la casa da te, ok. Questa ci abbiamo un invito, ma con chi dobbiamo parlare? Chi sono? Eh... Imon, ti ripeto il stare zitta. Chiudai aria la bocca e più figure del cacchio cefamo. Ok. Pranzo... Che non c'avevo fame per niente, ma vabbè. Apro la mia bottiglia di vino. L'avete sentita? Dov'è Toma? Ah... Potrebbe essere la cosa più carina che abbia mai visto in tutta la mia vita. No, non è vero. Non dirmi che ha la capacità di trasformarsi. Ma che è un inugami, Toma? Che serasima, per favore. Eh, infatti... Avrei dovuto tirarti una sedia quando potevo. Sei così vicino da prenderti un brutto nickname. Addio, Vaimon! Basta! 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 Perché devi fare il Comic Relief? Perché devi fare il Comic Relief? Allora non hai capito. Allora non hai capito. Non ci interessa! Non ci interessa! Non viagliu... Allora non siamo stati chiari. Allora non siamo stati chiari. Non ci interessa niente della politica, della cosa, del decreto, della... Noi siamo qui per fare parlare la divinità che sta qui. Perché sennò non troviamo questa sorella col cazzo che la riprendiamo con noi. La riusciamo a trovare. Ok, sì. Non ci interessa. Non ci interessa. Non ci interessa. Non ci interessa. Ah, dice che... Probabilmente... Allora dice che... Siccome ci siamo incontrati contro queste regole, ci siamo un attimo messi... Ci siamo trovati impreparati. Dice che perché non siamo... Non abbiamo abbastanza... Non siamo abbastanza terminati. Per farlo. Probabilmente... È per questo, dice... Probabilmente da adesso ti dirà una cosa del tipo... Se non sei determinata bestia... Proprio... Termine preciso... Davanti all'arco vonte elettrico non ci vai. Perché te... Ti ammazza. Non tanto tempo fa... Avevo un amico che era come te... Ma poi il fulmine ha colpito. Ah... La storia del Dio non è presente. Dio non è presente... Ma hai appena parlato? Hai appena parlato? Tu hai appena parlato? Ehm... Allora... Prendo... Del tè... Con... Se non c'ho il menù davanti non so che fare. Che bello, c'è sta proprio la cosa da... Cerimonia del tè. Con dei dango, per favore. Ma assomiglia un po' alla... Aspetta un momento... Ma è la sorella di Aether. Nooo... Raga... Non mi di che sta cercando di diventare una divinità. Quindi... Se io avessi il personaggio femminile sarebbe... Maschile? Non credo. Un Dio inamovibile. Un Dio inamovibile. Ci sono cose dentro la statua. Visioni. Come? Ma vedi che c'hanno visioni diverse? Quella è blu... O... O viola. C'è una verde... Una gialla... E' una nazione dell'eternità. E' una nazione dell'eternità. Questa l'abbiamo capito. E' questo che non capi... Cioè... Tu mi dai una definizione magari di eternità. Il Raiden Shogun è... La nazione... Il... Il governatore di questa nazione e la sua divinità. La sua eternità... La sua infinita e irremovibile... Will sarebbe tipo... Volere di comandare sopra... Di... Regnare sopra Inazuma. Utilizza le tre commissioni... E il decreto per limitare lo spostamento dei movimenti. Aha! Lo sapevo! Lo sapevo! Qui dice... Vuole... Lo Shogun vuole... Ehm... Far si che Inazuma rimanga stagnante... Rimanga in stasi... Ehm... Facendo si che il... Cosa del tempo... Il tempo passi fuori... Ma non all'interno di essa... Anche se tipo... Rimanga sempre lo stesso... Nonostante il tempo di cambio non va lì fuori di essa. Esempio... Come... Ehm... Zongli voleva che il... Liu fosse una terra di contratti e cose così... Dopo un po' ha smesso proprio di fare il denaro... Perché lui... Da lui arriva il denaro... Ha detto... Io vi do l'inizio... Ma poi dovete campare da soli... Quindi ha fatto... Voi siete... Io sono il dio del contratto... Del commercio eccetera... Ma poi... Siete voi che dovete sviluppare questa cosa... Lei invece dice proprio... No! Non lo dovete sviluppare... Non dovete fare contatti con l'esterno... Dovete rimanere qua e basta... È proprio quella cosa che dicevo... Eccolo qua... Forse lo shogun... Crede che le visioni... Alla persona... Il potere di cambiare... E questa... L'eternità non... Potrebbe... Sbilanciare... Potrebbe stabilizzare... L'eternità che lei vuole... Terryu... La terza commissione... Che è quella che fa la caccia di visioni... Omnipresente... Simbolo d'eternità... Certo che... What the fuck... Forse... Forse... Il fatto che... Noi non abbiamo una visione... Ma risuniamo... Facciamo rettamente contatto... Con l'energia elementale... Possiamo contattare le altre visioni... E quindi... Ci sono i ricordi dei proprietari... Forse... Aspirazione... In effetti è vero... Le visioni sono date dalle divinità... Per le aspirazioni delle persone... Ehm... Per esempio... Ehm... Quelle di Gio sono... Hanno a che fare con... Contrattazione... Voglia di... Ehm... Servizio... E cose così... Ad esempio... Ningguan... Controlla tutto il mercato... E... Lei da piccola tipo... Era super povera... E voleva semplicemente... Essere in grado di... Ehm... Poter... Commerciare il più possibile... E cose così... Però non si spiega molto in effetti... Sta cosa... Però si sa... Si... Si sa che lei... Era molto povera da piccola... Ehm... Noelle per esempio... Che è una Gio User... Ehm... Ehm... E' una... Una cameriera... E praticamente... Sta sempre al servizio di chiunque... Ehm... Per ogni singolo fatto... Non facciamo le battute del cazzo... Per favore... Mentre per esempio... Quelli Electro... Che mu... Una persona... Per esempio... Ho visto un video... Mi ha fatto pensare... Ehm... Dice che... I personaggi con Electro... Si estraneano... Dalla realtà... Diciamo... Per esempio... Fisk... Che si crede di essere qualcosa di... Ultraterreno... Ma non lo è... Ehm... Beidou... Che per imprimare... Non vuole essere associata a niente... Vuole vivere tranquilla... Vuole vivere per il colto suo... Per... Con le sue regole... O... Lisa... Che è scappata da Sumeria... Ehm... Cioè è scappata... Se ne è andata da Sumeria... Perché non... Non voleva essere... La top... Il miglior ricercatore... Il migliore studente... Di quel posto... E ha detto... Se ne è andata... E quindi ha deciso di vivere... Una famvita tranquilla... Al Mostad... Vedi... Quando una persona... L'ambizione della persona... Riaggiunge una certa forza... I dei... Gli danno favore... Gli darivano le visioni... Eccetto che non è potere... Ma io... Cioè... Però dobbiamo ripetere ragazzi... Non stiamo qui per... Risolvervi i vostri problemi... Per l'ennesima volta... Noi siamo qui per i cazzi nostri... Ti prego diglielo... Diglielo ti prego... Metti il punto su sta cosa... Se no andiamo a finire... Che affronta un'altra divinità... Del cazzo... Nooo... Si passa attraverso i tori... Tori... Porca traionzone... La pronuncia... Adesso... Di notte deve essere... Una cosa spettacolare... Ma... Sono tanuki? Sono tanuki? Non ho mai visto i pirò... Le stati di tanuki... Su quattro zampe... What the... What are you? Ma che sto tipo esili? Beh? Ah si... Sono i sili! Ah io... Potresti evitare di darmi la scossa? Sono... Sto... 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 Sto un po' così... Che cazzo... Sto... Sto un po' così... 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 Mi è venuto il dubbio che se i Sakura Bloom siano gli oggetti che servono per qualcuno Sperghiamo a Dio che non servono per... Ah, devo arrivare lassù, però Cos'è? Monte Yogurt Yogurt Ma rieccolo che... Ti devo attaccare o che caso? No Vuoi che faccio un'offerta? Oppure mi stai mostrando la strada per qualcosa? Sono... Sono... Molto confuso Vabbè, siamo arrivati Dov'è la ragazzina? La bella ragazza No, sul certino Zen Cazzo, sto vizio che c'ho di andare Ci devo andare sopra Hellooo Salve Quindi questo è il simbolo del Kamisato Oddio che fiore è quello, mi ricordo È un fiore specifico Paimon, te l'ho già detto Zitta Ci facciamo delle figure di merda Non è inelegante Anzi, l'eleganza è nella sua semplicità Ojo Nooo La chiamo Ojo È lì dentro Siamo i classici stranieri Che arrivano in Giappone Così così E fanno le figure di merda Con portartesi da pirla Proprio, guarda Ah, forse... Parla del fatto che Il decreto delle caccia televisioni ha Fatto soffrire qualche persona Che volemo, questo Usate, eh La commissione di Ashiro sarebbe Formata dal clan De Koso Clan Tuo Che probabilmente è il clan principale Che dovete Che probabilmente Il Koso Il Koso La commissione Koso È quella che controlla il mercato Voi siete quella che controlla Le cerimonie e le cose culturali Mentre guardate Probabilmente sarà L'esercito O le atti Ecco Sono due Tra le... T'hai ribito Aiutaci col tuo potere Noi possiamo... No 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 Basta immischiarsi Negli affari degli altri Mi dispiace Cioè Yaka Manno Sono... 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 Ah Soushō Siamo 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 Faire Il grado di far il galoppino Volevi che era Tre Tutti Il più Ancora Decoccio Sta gente decoccio La principessa dietro le corte Sai che mi ricordo Porca troia L'ho capito adesso Cazzo ho capito adesso Chi è ispirata a Yaka La Gru Il fatto che sta dietro le tende Probabilmente se Allora se Hanno fatto si che lei tipo Gli piace fare i vestiti Allora è ispirata Alla storia della Gru La storia della Gru Era una storia Del froucru giapponese Praticamente questa Gru È stata salvata da un essere umano E per ringraziamento Praticamente ha assunto La forma umana Cioè Si è detto Una forma umana E praticamente Per ringraziare Gli faceva i vestiti Devo raccogliere Come i ragazzini D'estate nel Giappone Oni kabuto E praticamente Questa Gru Gli faceva i vestiti Gli ha fatto i vestiti Però l'unica cosa Che non si doveva far vedere E ogni notte Lavorava Gli faceva Questi stupendi vestiti A te che lui Si chiteva Da dove arrivasse i vestiti Finché una notte Non l'ha vista Ha visto solo l'ombra Di questa Donna Che Oh ma ti fermi Ti fermi Fermati No non lo fa Perché? Un po' buggata Sta cosa comunque E Allora una notte Non hai riuscito A controllare Il suo impulso Di vedere Di scoprire Chi fosse A fargli questi vestiti Stupendi Vedeva solo L'ombra Di questa Gru Cioè di questa Bellissima donna Fare I vestiti E allora Un giorno Ha aperto le tende L'unica cosa È che Una volta Ha aperto le tende Purtroppo La Gru La donna È tornata a essere Gru E se n'è andata Praticamente Ed è scomparsa Per sempre Però La storia Non è che Il fatto di La curiosità Così così Ma la storia Era una storia Di immensa gratitudine Spiega come La gratitudine Può arrivare anche Da chiunque Probabilmente Da qualsiasi cosa E anche se Vabbè Il fatto che Quello si doveva Fare i suoni Non andrà a toccare Le tende Però Wait what the Dove cazzo Oh Un nuovo tipo di fiore Nakuweed Dove sto andando Dove sto andando Dove sto andando Piano No 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 Ok Anche perché Lo devo fare di fretta Deve corsa Ma sono in cima Una montagna Che si vede Da lontano Wait what Ok Eh fighe Che scherzo Però No Stiamo andando Dentro un tempio E come Come hai fatto Arrivare qui Tu Bello Siamo arrivati Dal tempio Quello del sac No Che cos'è Quello E' quello Dell'acqua Spirio che bevi Che ti porta fortuna Giusto O in base Alla proprietà Non lo so Ci sono diversi tipi Di fronte Questo Questo è quello Che le breghiere E c'è un albero sacro Ovvio Ovvio Che c'è un albero sacro Sacred Sakura E' a forma di volpe No Ma è bellissimo Questa cosa E' un albero di ciliegie A forma di volpe What the fuck È come l'albero Che sta a frost pine A frost pine La Questo è quello Questo è quello delle Non gli piace il suo lavoro Ah questa è una parte Sicuro Stava un brutto Sentimento E' un nuovo sentimento In teoria In teoria Se mi ricordo bene La cosa La tradizione Bisogna andare Dove c'è stanno quei Che c'è stanno che c'è stanno Ma siamo dato il fiore Dell'elettro Eccolo Ah no Questo è quell'altro Siamo meglio nel villaggio Tejima Dove c'è stanno Dove c'è stanno Dove c'è stanno Dove c'è stanno Ah il protettore Il protettore di questo villaggio Da 30 anni Forse era Scommetti Che c'aveva Una Cosa del Gio Una visione del Gio Da quando ha perso la visione Non c'è più la memoria Perché ha iniziato a fare Quella ha fatto Ha senso Se la visione E' nata dall'ambizione Di qualcosa Probabilmente la sua C'era una visione Tipo Gio Con la O Gio O Boh non lo so Forse l'acqua Per dire la giustizia Una cosa del genere E' probabile Che Una volta eliminata la visione Se tu gli togli la visione Forzatamente Ricidi In qualche maniera Lui L'arconte Del Electro Riesce a recidere Questa cosa Il legame con la visione Si Elimina l'ambizione Che aveva E non solo Tutto ciò che è legato All'ambizione Quindi anche i ricordi Di perché ha avuto Quell'ambizione Teneva un diario Dopo tutto Cazzo ci serve qualcuno Che li protegge Da sti banditi Che Un tempio e c'aveva un talismano, un Omamori Che dipende da... ci sono vari talismani Gente che si è per quello studio, per buona fortuna, semplicemente per buona salute Per un figlio maschio pure Per esempio il mio portachiavi è a forma di Omamori Non ci credere, è vero C'ho un talismano a forma di... un coso a forma di Omamori Che c'è scritto destino sopra, ma vabbè Ho comprato il primo Romics Mi sembra un Omamori, mi sembra un... un portapillole Wait, what? No, fermati Ok E' dentro casa Una tomba? Magari è una tomba invece di essere un semplice nascondiglio, porca miseria Una lettera La carta è abbastanza vecchia da essere ingiallita Se ci separiamo durante la guerra Aspettami Al villaggio di Konda Sarà la nostra casa sicura Quindi è qualcosa che è successo molto tempo fa Ma perché non la ricorda? Se la sua visione... E allora è sopravvivenza E allora ce l'avevi di fuoco Forse la visione E allora ce l'avevi di ghiaccio L'arconte del ghiaccio è quello del... diciamo dell'amore Ma... quello vecchio Che vedo che c'è adesso Non prova più amore per il suo popolo Eh, nonostante non se la ricordi È come se ci avesse un vuoto È normale Paimon, non se stiamo a far fuorviare Non c'entriamo niente Un samurai della terrio Cioè, di quelli che rubano le visioni Ah, la terrio è direttamente sotto il comando dello shogun Forse perché in qualche maniera ha cambiato Non c'entriamo Non c'entriamo Forse la sua cosa è la compassione era La sua visione sulla compassione Adesso non ce l'ha più Può essere Bella roba perché c'avevi una visione Quindi non potevi essere controllato Cioè, a rischio che potevi ribellarti Allora te l'hanno tolta Tante stronzate Cercherò di fare una specie di Mare i video con un diario È attiva quella Sì Ecco il teaser order E c'è proprio la persona giusta per fare questa cosa E c'entriamo Cioè, che non deve essere E c'entriamo Perchè E c'entriamo il mio nome è di lui non c'è la mia vita non c'è nessuno e la mia vita e poi ci sono ancora un po' di sé questo è che cosa cosa che cosa cosa che cosa il mio nome è è che cosa mi viene la portata vi ammazzo